Ciao Licia, sono Stefano, parlo anche per conto di Loredana Macri, la volontaria. Gestiamo una colonia felina a Ostia Lito, nella pineta di via Marrosso, di 60 gatti, circa 60 gatti più 4 cani. Volevo ringraziare te e l'Animali Animali Ollus per il prezioso cibo che ci avete donato e caricato proprio adesso qui in macchina. Grazie ancora, grazie.